Dobbiamo segnalare in questa attività veramente lo straordinario coraggio e la dedizione di tutti i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, i cittadini, i volontari della protezione civile che hanno veramente dato dimostrazione in questa occasione di una straordinaria dedizione, così come permettetemi di sottolineare lo straordinario senso civico di dedizione e di altruismo che i cittadini pugliesi hanno dimostrato nel momento in cui vi era bisogno di donare il sangue a loro. A loro va tutta la nostra riconoscenza e anche l'orgoglio di questo Paese così capace di stringersi intorno ai momenti così drammatici.